Mi chiamo Joachim Moltke e gestisco la Listrop Ejomfrunz Egede, oggi alla sesta generazione. In questo posto coltiviamo ben 1800 ettari di terra di nostra proprietà. Collaboriamo ottimamente con due vicini. Durante il periodo più intenso di raccolta e in alta stagione, lavoro attivamente anch'io. Per la raccolta utilizzo in genere la nostra mietitrebbia e mi occupo anche di tutti gli altri lavori. Sono responsabile di progettazione e strategia. Utilizziamo Telematics dal 2013, cioè da quando acquistammo la nostra prima nuova Lexion. Mi sono occupato di Telematics perché ritengo che dobbiamo ricevere quanti più dati possibili. Utilizziamo Telematics quotidianamente. Ad esempio, le nostre macchine sono state ferme a causa di un serbatoio pieno o si poteva ottimizzare qualcosa dal punto di vista logistico. Utilizziamo Telematics anche per vedere quali lavori devono essere ancora svolti in un campo. E il nostro responsabile dell'azienda può vedere a che punto siamo. Possiamo calcolare le rese per ettaro e stabilire quanti carri trasportatori sono necessari. Se una macchina lavora più lentamente di un'altra, controlliamo se tutte le macchine sono impostate nello stesso modo. Alla sera, l'app ci mostra se dobbiamo portare altro carburante per il giorno successivo. Quando assistiamo i nostri vicini, Telematics documenta i lavori effettuati dalle nostre macchine. Così possiamo mostrare, ad esempio, sulla base delle nostre rese per ettaro, quanto frumento abbiamo raccolto per ettaro. È quindi molto più semplice parlare di prezzi perché abbiamo le cifre corrispondenti. Se abbiamo l'impressione che una delle nostre macchine, nonostante tutti gli sforzi, non abbia le prestazioni che dovrebbe avere, grazie a Telematics possiamo capire quali sono le prestazioni delle altre macchine in Danimarca, a parità di prodotto e resa, e come queste macchine sono impostate. Telematics offre anche rapporti stagionali. Prima stampavamo strisce di carta che però non guardavamo mai. Oggi, per lo stesso scopo, utilizziamo uno strumento. Ogni anno stendiamo una relazione su come è andato l'anno precedente. Ci troviamo bene utilizzando FleetView. Siamo molto soddisfatti e troviamo che sia uno strumento di analisi importante. Se avete inserito un carico di cereali, potete vedere con quale rapidità dovete essere di nuovo sul campo. Utilizziamo l'app anche per la logistica. Possiamo riconoscere a che distanza dai campi sono i carri trasportatori. Devono seguire la mietitrebbia? O la mietitrebbia deve fermarsi e attendere i carri di trasporto? Per la nostra logistica questo strumento è molto importante. Consiglio a chiunque Telematics, dato che ha parecchie funzioni da offrire.